Bentornati raga, qua è Savix che vi parla Allora ragazzi, reaction della nuova macchina che dovrebbe rappresentare la BMW Allora, ieri quando l'ho comprata e l'ho portata direttamente dallo Santos per modificarla Era tutta originale, ragazzi, faceva schifo, non teneva niente, non andava nelle curve E sembrava una macchina veramente di merda Poi moddandola, modificandola, ho scoperto che ragazzi non mi chiedete perché Ma questo gioco lo sapete che è strano, se no non sarebbe GTA e a noi ci piace apposta per questo Che se a me vi mettete l'alettone, questo coso qua gigante dietro la macchina cambia completamente Se voi la sdraiate per terra, quindi a setto basso e mettete questo alettone Ragazzi, la macchina cambia completamente È orribile, lo so perché veramente non è una cosa guardabile Però io volevo fare una cosa tamarra, cringe, volevo metterci appunto l'alettone grosso così Con la tavola e ho scoperto che, regà, la macchina così va veramente bene Come vedete, cioè, non è che va fortissimo Non va fortissimo Però è una macchina che si guida decentemente E fa il suo È un bel veicolo perché, regà, è un bel veicolo Immaginatevi una bella collezione di quelle 3-4 macchine dell'Audi BMW che stanno uscendo in un garage tipo il CEO Tutte messe là Stanno veramente bene perché sono bei mezzi Quindi passiamo subito alle modifiche, ragazzi Che, come al solito, sono sempre le solite cose Diciamo che, di nuovo, possiamo dire che abbiamo nei paraurti assolutamente niente Sono sempre le stesse cose riciclate Possiamo passare ai telai che, praticamente, sono i sedili, le portiere, solita roba, niente di che Le marmitte carine, così, sulla portiera posteriore e bassa Infatti io l'ho messa in quella maniera Poi cosa abbiamo? Le solite ventole, cioè il logo nuovo del veicolo Niente di che i cofani sono sempre i stessi cofani Se andate a vedere sono più o meno le stesse cose, ragazzi Le stesse forme Cosa abbiamo? Livret che personalmente fanno tutte caccare, ragazzi Forse questa è la più carina Ma non le metto neanche Infatti la tengo clean senza livret Minigonne sono sempre le stesse Non ce n'è di nuove Non hanno aggiunto nessun tipo di modifica Posso passare poi agli spoiler Che, come vedete, mettendo comunque questo cavolo di spoiler, ragazzi, la macchina Prende un altro assetto Diventa veramente guidabile Purtroppo è osceno Ma è così, ragazzi Una cosa che ho scoperto Per caso, infatti ho visto che in tanti la insultano, sta macchina Provate a mettere quella lettone Abbassatela completamente con gli ammortizzatori E ditemi cosa ne pensate Io spero che questa reaction vi sia piaciuta Lasciate un like, lasciate un commento Supportate Xavix Iscrivetevi in tutti i miei canali di Telegram, ragazzi E sbadabam Alla prossima Bella, regà